A 30 anni dalla risoluzione del caso Moro, ieri, 31 dicembre 2020, in un articolo su Prima Pagina News, Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale, diretta da Maurizio Pizzuto, ho rivelato i retroscena casuali che mi condussero a ricostruire la vicenda più eclatante della storia italiana nel libro Gladio Rossa, una catena di complotti e delitti dal dopoguerra a caso Moro, che l'editore Marsilio, dopo averlo pubblicato, unico caso nel mondo moderno, decise inaspettatamente di cancellare dal proprio catalogo e di restituire i diritti d'autore. Con il silenzio della classe politica e giornalistica, un nuovo libro, Storia segreta del PC dai partigiani a caso Moro, pubblicato presso Rubettino, ha subito quasi le stesse conseguenze. Non la rimozione dal catalogo, ma ostruzionismo nell'impatto mediatico e relativa difficoltà nella diffusione del volume. Il lavoro che mi portò a scrivere questi libri fu realizzato quando il governo italiano, a metà degli anni Ottanta, sembrava fosse in grado di avere l'autorevolezza necessaria a sostenere la soluzione del caso Moro. Non solo. Attraverso il Ministero degli Affari Esteri, lo Stato italiano mi incaricò di studiare in Cecoslovacchia per ben due anni, in collaborazione con il governo locale e l'Università di Brno, e per altri due anni ancora continuai su incarico ufficiale del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l'Istituto di Sociologia dell'Accademia delle Scienze di Praga. Ma l'ipocrisia tipicamente italiana era tale per cui, attribuendomi le borse di ricerca e attribuendosi i meriti dell'iniziativa come alibi, la classe politica riteneva, e sperava probabilmente, che mi sarei recato in Cecoslovacchia in tempo di guerra fredda all'unico scopo di compiere una vacanza e avrei trascurato la vera causa del mio viaggio. Possedevo gli accrediti ufficiali del governo italiano per studiare nell'Università della Cecoslovacchia, ma il clima politico dell'epoca era tale per cui sembrava che qualcuno mi avesse mandato allo sbaraglio in tempi in cui la dicotomia Est-Ovest aveva raggiunto livelli più che allarmanti. Avevo un progetto di ricerca approvato dal governo ciecoslovacco e sapevo di essere sotto attento controllo dei miei referenti universitari politici affinché il programma fosse eseguito nei suoi rigidi limiti operativi consentiti dagli accordi bilaterali. Ma bastava poco per compiere un passo falso e trovarsi in una situazione politica di non ritorno. Mi affidai però alla mia vera esperienza in intelligence e attraverso un'attenta e calibrata tecnica investigativa trovai il filone giusto per lavorare giorno e notte e nessuno o so disturbarmi. Insomma chi va all'estero per studiare in progetti di ricerca bilaterali dovrebbe possedere la necessaria esperienza di ricercatore, non quella del giovane predatore inesperto come spesso accade. Anzi lavorando con grande attenzione e severa meticolosità sui passi compiuti giunse a conclusioni scottanti per la classe politica italiana che dal dopoguerra aveva fatto tanto per mantenere sotto traccia la storia dell'ex partigianato deviante fu riuscito con un comportamento inappropriato e con la sigla volante rossa dalla benemerita organizzazione che aveva contribuito a liberare il nostro paese. Quando portai a termine il mio lavoro la volontà reale dello Stato italiano nel risolvere il caso Moro fu smascherata perché nessuno ebbe il piacere di accogliere il mio studio in quanto nel frattempo le istituzioni interessate avevano ricevuto notizia che in ciecoslovacchia ero riuscito inaspettatamente a mettere le mani nella piaga che avrebbe prodotto conseguenze scottanti per il partito comunista italiano e le organizzazioni ad esso collegate. E così i due libri Gladio Rossa, Marsilio 2004 nonché storia segreta del PC Rubettino 2013 risultano essere gli unici ad aver affrontato per la prima volta le responsabilità della minoranza di ex partigiani devianti fuoriusciti alla base del rapimento di Aldo Moro. Dopo aver commesso reati in Italia durante la seconda guerra mondiale e nel successivo dopoguerra i partigiani devianti individuati furono aiutati dal PC a fuggire in diversi paesi. A seguito dell'accordo tra partiti fratelli essi furono successivamente riuniti in ciecoslovacchia. I migliori, quelli utili alla causa comunista furono ospitati a Praga. I meno utili ed anche coloro che avevano commesso reati più gravi, magari essendo stati già condannati e aiutati a fuggire prima del loro arresto, furono riuniti a Brno. La loro storia ciecoslovacca è interamente ricostruita soprattutto in Gladio Rossa. Col trascorrere del tempo furono amnistiati e in tanti, anche attraverso la cosiddetta legge mosca, ritornarono in Italia e continuarono ad essere sempre protetti dal PC italiano. Gli ex partigiani comunisti devianti, poche centinaia per la verità, che avevano violato la legalità del vasto ed encomiabile movimento politico che aveva contribuito alla liberazione del nostro paese, rappresentano la genesi ispiratrice del rapimento di Aldo Moro. In conseguenza di tale ricostruzione di Corosa, il libro Gladio Rossa, risulta essere l'unico al mondo ad aver ricevuto la sentenza di condanna al moderno rogo, cioè alla restituzione dei diritti d'autore e alla cancellazione del titolo da parte della casa editrice Marsilio, a cui soggetti interessati ad altissimo livello istituzionale avrebbero imposto di dar seguito a una meditata operazione oblio. Ma il libro è sempre presente come un totem ed è possibile trovarlo in internet attraverso il mercato privato, nelle principali biblioteche del circuito OPAC e università e biblioteche straniere, tra le quali Stanford University, Library of Congress e numerose altre nel mondo. La verità che ormai non può essere taciuta è che il caso Moro è stato da me risolto nel lontano 1991 ed è nota a tutte le commissioni parlamentari, le quali hanno in archivio i documenti da me prodotti e nessuno dei suoi componenti ha mai avuto il coraggio politico di contestarli, neppure di confrontarsi con i miei libri Gladio Rossa in primis e Storia Segreta del PC. Fa tenerezza tuttavia che ex presidenti di commissioni parlamentari scrivano libri dichiarando che, nonostante il loro lavoro compiuto in lunghi anni, il caso Moro non sia stato ancora risolto. No, caro presidente, lei sa bene che il caso Moro è stato risolto da sottoscritto addirittura nel 1991 e per giunta su incarico dello Stato italiano, il quale, per radicata ipocrisia istituzionale, ha continuato a istituire commissioni e inutili commissioni di indagine sul caso Moro. In pratica, come disse lo scrittore Carlos Ruiz Zafon, sono poche le ragioni per dire la verità, mentre quelle per mentire sono infinite. Ho tuttavia accettato di fare lunghe interviste telefoniche che i grandi giornali hanno poi sistematicamente censurato, salvo alcuni blitz ancora, prima ancora, che la classe politica e giornalistica interessata prendesse visione concreta del mio lavoro. Solo così è stato possibile documentare a suo tempo una piccola quota della storia segreta da me ricostruita su quotidiani tipo La Repubblica, Il Giornale, L'Avanti, su periodici come L'Espresso e L'Europeo, sulla Rai, telegiornale Tg1 delle ore 20, Rai Parlamento, Radio Rai, sulla Sette e numerose altre testate. Sempre poca cosa rispetto alla bomba mediatica politicamente scorretta, contenuta nei miei libri e lasciata abortire con la cancellazione del titolo, operata attraverso la casa editrice Marsilio. Ecco perché pubblicare i miei libri fu molto difficile. Nessuno desiderava sporcarsi le mani e prima volta vi riuscì, dopo circa 15 anni, salvo rimediare con la condanna all'oblio. Con la successiva pubblicazione di Storia segreta del PC addolcito negli aspetti pregiudizievoli, sebbene non ritirato dal commercio, si è avuto il medesimo risultato. Insomma, il caso Moro è stato da me risolto nel 1991 e nessuno potrà mai negarlo se non col silenzio. Figurarsi ora, se alla mia età desideri continuare ancora a inseguire le farfalle di un giornalismo italiano succube, ben degno di meritare la disistima delle organizzazioni mondiali. Ma il dato è tratto e prima o poi, magari tra 20 anni, qualcuno riprenderà Gladio Rossa, la storia segreta del PC e dirà o il caso Moro è finalmente risolto. Magari qualcuno rileggerà con attenzione, osserverà con altri occhi e altra logica. La connessione con Enrico Berlinguer è il suo primo comizio svoltosi a Padova. Bene, con l'invito a iscrivervi a questo mio canale autobiografico, auguro a tutti un buon 2021. Un saluto da Rocco Turi.